Buongiorno a tutti, questo video è proprio senza editing più che mai, ve lo caricherò così secco e deciso Niente, ho spostato il turno, lavoravo stanotte, invece me lo sono spostato di giorno Non sono andato ad armare con mia moglie, però stasera potrò vedere la conferenza a Betelbach In tranquillità e morire in santa pace con la notizia che probabilmente sarà un multiplayer Io spero di no, ma c'è una buona possibilità che lo sia e quindi probabilmente ci scorderemo i vari video tipo Gli alieni attaccano, la cda risponde al fuoco, queste cose qua E niente, quindi speriamo bene per stasera ragazzi, però farò una live, spero di non addormentarmi ma il rischio c'è Perché sto tipo già accorto Comunque niente regà, niente editing, niente effetti, mi dispiace, è un video semplicissimo che poi cancellerò Questo video si autodistruggerà O io mi autodistruggerò che so per fare un frontale ragazzi E niente, per la polizia io in realtà non sto guidando e questa è un'eccellente computer grafica Quindi altro che editing E niente, dagli a tutti ragazzi, spero che stasera ci sedete E niente ragazzuoli Dagli a tutti, sostenete il canale ragazzi Perchè, porca amadosca, io non c'ho tempo ma ce la sto a mettere tutta Ve voglio bene, grandi ragazzi E se sopravvivo a questo video, a stasera Che non mi addormento, scusate Bella ragazzi Dalla collatina, altro che full out 4 Grazie a tutti